Avremo qui presente in questi giorni, come già sono arrivati adesso, tutta una delegazione di confezionato nazionale, i vari presidenti delle regioni, quindi abbiamo anche la possibilità di poter inserire questi ragazzi direttamente nelle aziende come stagio, quindi è momentaneamente molto importante e formativo per loro e oltre ad essere l'Italian Fashion Talent un'importante passarella per questi ragazzi e anche un'importante opportunità. Abbiamo qui giovani designer a cui viene data una possibilità non soltanto di fare una gara ma anche di andare a fare degli stagio formativi veri e propri, quindi di trovare lavoro, quindi non stiamo parlando di una celebrazione, di una manifestazione che si conclude ma di dare ai giovani l'opportunità di andare a lavorare credo già da lunedì, quindi insomma zero fuffa come diciamo sempre. Salerno capitale della moda emergente, questa mattina la presentazione della tre giorni dell'Italian Fashion Talent Awards 2018, sponsor della manifestazione gruppo Interauto Autosele di Ciro Noviello che presenterà in esclusiva la DS7 Crossback. Il gruppo PSA che ingloba i marchi Citroen, Opel, Peugeot e il nuovo brand di lusso del gruppo, ovvero DS Automobile, presente sul Salerno con i nostri marchi Opel e Citroen, l'interauto Salerno e l'autosele Salerno. Abbiamo il piacere di presentare e di lanciare la nuova vettura di prestigio, il nuovo SUV DS7 che rappresenta una svolta epocale per il nostro brand DS perché è il primo vero SUV top di gamma per noi che farà da apripista per una serie di nuove vetture di alta gamma, di alta tecnologia, di alto prestigio che prenderanno spunto proprio dallo stile, dal design e dalla qualità che abbiamo proprio sulla nostra nuova vettura, sul nostro nuovo SUV top di gamma. DS7 si distingue dagli altri competitor, dagli altri marchi altrettanto qualificati per innovazioni tecnologiche, di design, di stile, si stacca un po' dalla massa, è un SUV fuori dal coro in questo caso, lo si nota per le qualità estetiche che saltano subito all'occhio a chi ha il piacere di vederla dal vivo, ancora di più quando si ha il piacere di entrare in vettura, quando la si può vivere negli interni, nei pregi delle finiture e nella tecnologia. È un'auto su cui noi contiamo tanto, ci sta dando ottime dimostrazioni di riscontro da parte della nostra clientela, si sta affermando come nuovo prodotto top nel segmento SUV medio grande, si scontra con competitor importanti di tutto rispetto ma noi non temiamo nessuno come concorrenza, infatti stiamo avendo ottimi riscontri proprio dai clienti dei brand più classici, quindi più affermati come possono essere Audi, BMW e Mercedes che danno al nostro nuovo SUV DS7 una grandissima considerazione. Invito tutti i nostri amici e potenziali acquirenti a venire a vedere il nuovo SUV DS7 presso lo store DS Saloon di Interauto.